Dade Ciappone, direttore d'organizzazione del 17esimo giro della Toscana, quattro tappe, all'inizio si era temuto che gli italiani non fossero all'altezza ma poi si sono rifatti. Sì, per quanto riguarda l'arrivo di tappa, sì, per la classifica sono sempre gli stranieri a dominare, però insomma gli italiani a livello tappe si sono impegnati, in particolare al modo pisani e sono molto contenti. Una grande manifestazione, tanti partecipanti provenienti da tutto il mondo, anche quest'anno un successo straniero, però direi che lo spettacolo non è mancato. Devo dire che è veramente soddisfatto perché ci sono state delle tappe con tanto pubblico e poi una partenza all'Accademia Navale che ha un significato particolare, anche se il pubblico lì ce n'era un po' meno perché era riservato solo agli atleti e agli addetti a lavori, ma l'arrivo era abbastanza numeroso e poi le altre tappe sono state tutte spettacolari, bellissime. Sono delle persone da ringraziare? Io ringrazio tutti, non solo per oggi ma per tutti questi 17 anni perché credo che il mio ciclo sia arrivato anche il momento che io mi metto un po' da parte e vado avanti ai più giovani. Grazie a tutti.